Non siamo favorevoli perché il diritto di due adulti dello stesso sesso di avere un bambino cozza con il diritto di un bambino di avere un papà e una mamma. In natura succede che un uomo e una donna, un maschio e una femmina hanno un figlio, non abbiamo mai visto in natura due maschi o due femmine riuscire ad avere un figlio e di conseguenza questo è il motivo principale per cui la Lega continua a dire, l'abbiamo detto anche durante il dibattito sulla legge Cirinna, continuiamo a dire che lo Stato non deve entrare in camera da letto dei cittadini italiani, però almeno tutelare i bambini italiani che in questo momento non hanno parola, non hanno voce per potersi difendere da questi atti di egoismo, almeno noi ci proviamo.